Parte ufficialmente il Valdiano 2018. Questa è la nuova denominazione dell'Associazione Sportiva Nata a Tegiano. Alla presidenza è stato indicato Pierangelo Trezza. Insieme a lui compongono il nuovo direttivo Dario Tamburro, vicepresidente, Rocco Di Gruccio, segretario e Michele Delia, cassiere. I consiglieri sono Piero Di Candia e Paolo Vertucci, già direttore generale del club. Al Valdiano 2018 innanzitutto va dato il merito di aver tenuto in vita un sodalizio che era giunto al capolinea. L'obiettivo è quello di dare nuova linfa al progetto che vede la squadra di calcio presentarsi per il quinto anno consecutivo ai nastri di partenza dell'eccellenza. Mai nessuna squadra del comprensorio valdianese da quando nella stagione 91-92 è stato introdotto questo campionato e riuscita ad avere una presenza così costante nel prestigioso torneo regionale. Tra i primi impegni dei neodirigenti c'è quello di avviare una concreta collaborazione con lo Sporting Sala Consilina del presidente Antonio Detta. Per creare una sinergia con i tanti giovani calciatori in forza a questo organizzato club. Poi c'è la questione campo. Dopo una stagione trascorsa a peregrinare tra diversi impianti, da Sant'Arsenio a Caggiano, da Sala Consilina a Casalbuono, si ritorna al vetusto Antonio Vertucci di Teggiano. Sede questa che potrebbe essere cambiata nel caso in cui due strutture più moderne come il Russi di Sala Consilina e il Centro Sportivo di San Rufo si rendessero disponibili. Ma il vero intento dei neodirigenti, con l'ausilio degli amministratori di Teggiano, è quello della costruzione di una struttura sportiva ex novo. Come nel Vallo di Diano, anche nel Cilento si prepara a nascere una nuova società sportiva, quella che dovrà ereditare il progetto calcistico della Gelbison. Per venerdì sera è fissata l'assemblea che dovrà portare al passaggio della società dal direttivo di missionario ad una delle due cordate candidate alla successione.